Contratti terziari o siglato il nuovo contratto nazionale per i 15.000 addetti del commercio all'ingrosso dei fiori recisi, verde e piante ornamentali. Proseguono le trattative per i 200.000 addetti della distribuzione cooperativa. Al via il negoziato con la confedilizia per i dipendenti da proprietari di fabbricati e le assemblee di consultazione della piattaforma per il nuovo contratto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. FIS crescono fatturate occupazione dei servizi di mercato per la federazione del terziario della CISL urgente a valorizzare professionalità e retribuzioni dei lavoratori. Il comitato esecutivo FISASCAT fa il punto sulle trattative per i nuovi contratti nazionali attesi da oltre 2.500.000 di addetti e presenta Open Doors, il progetto interamente finanziato dalla federazione nazionale sui nuovi sportelli territoriali al servizio dei lavoratori. Idee per l'altra metà di domani, il convegno CISL sui diritti civili e sociali e sulla contrattazione di genere. Italia fa un alino di coda sui servizi all'infanzia. Furlana, un patto sociale per il lavoro, promuove il rispetto per le donne. Star Hotels, la catena italiana acquisisce 5 alberghi TLC a Firenze, Siena, Roma e Vicenza per i 167 lavoratori coinvolti dal passaggio garanzie sul mantenimento del trattamento economico e normativo. Starwood Hotels e Resort, la società Marriott International, si prepara all'acquisizione del gruppo statunitense. I sindacati siglano l'accordo con la direzione di CIGA Starwood sul mantenimento del sistema di relazioni sindacali e sull'ultravigenza dell'integrativo aziendale. Con la nostra rubrica dai territori faremo tappa in Lombardia, Veneto, Sardegna e Sicilia. Bentornati al TG Lab. Buone notizie per i 15.000 addetti del comparto Import, Export e Fiori Recisi. I sindacati di categoria Fisaska Cisle, Fly CGL e Wiltux hanno siglato con l'Ancef, l'Associazione Nazionale dei Commercianti e Esportatori Fiori, il rinnovo del contratto nazionale di settore. Proseguono intanto le trattative per il nuovo contratto della distribuzione cooperativa, mentre prendono il via il negoziato per i dipendenti da proprietari di fabbricato e le assemblee di consultazione della piattaforma per il nuovo contratto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. Il servizio di Paola Mele. Busta paga più pesante per i 15.000 addetti alla lavorazione, al commercio, al trasporto, all'esportazione e all'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, siglato a soli sei mesi dalla scadenza, riconosce un aumento economico di 75 euro al terzo livello, oltre agli arretrati che saranno erogati in due tranche a luglio e a novembre. L'intesa triennale, valida fino al 31 dicembre 2018, interviene anche sulla struttura contrattuale, contemplando il livello decentrato aziendale e sul sistema di relazioni sindacali con la costituzione di un osservatorio nazionale. L'intervento più significativo riguarda il welfare contrattuale, con una dichiarazione di intenti sull'adesione a Fondo Est, il fondo di assistenza sanitaria di settore, oltre all'adesione ai percorsi di formazione professionale erogati da Fondo Professioni. Sull'organizzazione del lavoro, l'intesa prevede il riposo dominicale e disciplina anche il ricorso al lavoro stagionale, correlato ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale. Soddisfazione in casa Fisaskat, il segretario nazionale Vincenzo Dell'Orefici ha sottolineato il recupero di fluidità nell'ambito delle relazioni sindacali in un settore che, seppure di nicchia, rappresenta in alcune economie locali un volano di sviluppo e di ripresa occupazionale. L'intesa è stata siglata a Imperia, dove l'occupazione del settore coinvolge circa 3.500 addetti. Il 20% della forza lavoro del settore. Dopo anni di crisi il comparto è in ripresa, soprattutto nella provincia Ligure, dove la floricoltura rappresenta un pezzo importante dell'economia territoriale, ha dichiarato il segretario generale della Fisaskat Cisle Imperia Savona, Massimiliano Scialanca, che ha siglato l'accordo. Proseguono intanto le trattative con le associazioni della distribuzione cooperativa per il rinnovo del contratto nazionale applicato ai 200.000 addetti del comparto. Sul tavolo i temi della classificazione del personale, dell'orario di lavoro e del capitolato contrattuale per i dipendenti delle imprese minori. La trattativa è aggiornata al 7 e 8 luglio. Sul fronte del comparto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari hanno preso il via le assemblee di consultazione a livello aziendale della piattaforma di rinnovo contrattuale, presentata dai sindacati nelle scorse settimane. Si è avviato anche il confronto con la Confedilizia per il nuovo contratto nazionale di lavoro applicato ai 40.000 portieri e pulitori dipendenti di proprietari di fabbricati. Il primo incontro interlocutorio ha affrontato i temi da ricondurre nell'ambito delle trattative aggiornate al mese di settembre. Welfare, sfera contrattuale, classificazione del personale. In Italia crescono fatturato e occupazione dei servizi. La ripresa moderata prosegue in linea con l'espansione dell'economia mondiale, anche se la debolezza dell'economia emergente continua a frenare l'espansione degli scambi globali. Si è aperto con questa analisi il primo Consiglio Generale della FIS-CISL, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, nata nel 2014 dalla sinergia di FIS-ASCAT e FELSA. I dettagli nel nostro servizio. Prosegue la crescita del settore dei servizi, misurata in termini di valore aggiunto e occupazione, come segnalano i più recenti dati diffusi dall'Istat. Secondo l'Istituto di Statistica, il fatturato dei servizi ha segnato nel 2015 una crescita dell'1,7% rispetto al 2014 e anche nel primo trimestre del 2016 si è registrata una crescita congiunturale del più 0,3%. Al netto degli effetti stagionali cresce dell'1,6% anche l'occupazione nelle imprese dei servizi, percentuale che supera quota 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un sostanziale aumento delle ore lavorate del 6,3%. Dati non trascurabili per la FIS-CISL, che proprio nel comparto del terziario dei servizi esercita un ruolo di rappresentanza sindacale con oltre 378.000 iscritti. È quantomeno paradossale che a fronte di una crescita complessiva del terziario dei servizi, molte aziende e imprese del settore abbiano spostato la loro attenzione dalla redditività ad assicurare la sopravvivenza economica attraverso la riduzione dei costi, compreso il costo del lavoro, ha stigmatizzato il segretario generale della Federazione Pierangelo Raineri, che ha poi posto l'accento su un'altra specificità del settore. Nei comparti labor intensive del terziario, dove sono occupati oltre 6 milioni di addetti, la mano d'opera è determinante per assicurare la qualità dei servizi erogati e la competitività delle stesse imprese, ha aggiunto il sindacalista. La sfida del sindacato del terziario è dunque quella di garantire, attraverso la contrattazione nazionale decentrata, la valorizzazione della professionalità, il potere di acquisto delle retribuzioni e l'aumento dei salari attraverso nuove formule partecipative, che dovranno coinvolgere indistintamente i lavoratori indipendenti, autonomi, somministrati ed atipici, ha concluso Raineri, obiettivo fortemente condiviso dalla Fisaskat, che al comitato esecutivo di categoria ha fatto il punto sullo stato dei negoziati e sulle principali vertenze aperte nei diversi comparti del commercio, turismo e servizi, dove oltre 2 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono in attesa del rinnovo dei contratti nazionali di settore. Open Doors è l'hashtag del progetto interamente finanziato dalla Fisaskat Cisla nazionale per la realizzazione dei nuovi sportelli territoriali al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi che potranno richiedere informazioni sui contratti nazionali e integrativi di settore e sui sistemi di welfare di origine contrattuale riferiti all'assistenza sanitaria integrativa, alla previdenza complementare, alla formazione professionale continua e al sostegno al reddito. Per la categoria Cisline è fondamentale favorire la diffusione delle previsioni contrattuali e delle opportunità fornite dalla contrattazione e dalla rete degli enti bilaterali di settore, anche alla luce delle recenti norme in tema di welfare aziendale introdotte con la legge di stabilità 2016 per incentivare gli interventi a favore della produttività e della redditività e correlate all'evoluzione normativa del Jobs Act. Per questo crediamo sia indispensabile un percorso di formazione approfondita sulle varie tematiche riservate agli operatori degli sportelli che potranno così rispondere al meglio alle lavoratrici e ai lavoratori che si rivolgeranno al nuovo servizio attivato sul territorio, ha dichiarato il segretario organizzativo della Fisaskat, Rosetta Raso. La prima sessione di aggiornamento ha coinvolto 50 operatori delle federazioni Fisaskat regionali e territoriali che ad oggi hanno aderito all'iniziativa. Idee per l'altra metà di domani è il tema del convegno promosso dalla CISL sui diritti civili e sociali delle donne e sulla contrattazione di genere, che ha coinvolto più di mille delegati e delegate CISL provenienti da tutte le regioni italiane. Nell'area OX l'Italia continua a distinguersi per una bassa presenza di servizi all'infanzia e alla non autosufficienza. Secondo i dati della CISL l'Italia è ancora il fanalino di coda su asili nido e servizi all'infanzia. Nel complesso si arriva ad un tasso di copertura pari al 27%, percentuale che al sud si attesta al 19,9%. Un ruolo sussidiario è svolto dalla contrattazione sociale. I dati dell'osservatorio della CISL contano oltre 4.600 gli accordi territoriali. Solo nell'ultimo triennio sono stati sottoscritti quasi 1.200 accordi. Di questi, oltre 350 accordi riguardano i servizi sociali e socioeducativi. Per la CISL servono più servizi e misure concrete che permettano alle donne di svolgere e mantenere un'occupazione, soprattutto rivolte alla conciliazione vita-lavoro. Guardare al futuro significa creare un paese dove la donna non deve scegliere se fare figli o lavorare. Oggi le donne vogliono lavorare, vogliono contribuire al futuro del paese e vogliono anche fare figli. E attraverso un welfare che sa rispondere a queste esigenze, una contrattazione che sa valorizzare questi temi, noi creiamo un futuro migliore per tutto il paese. Al convegno della CISL ha preso parte anche una delegazione Fisaskat. La funzionaria sindacale e coordinatrice delle politiche di genere della categoria Elena Maria Vanelli, intervenuta all'iniziativa ha illustrato in particolare l'esperienza di Cassacolf nella tutela del lavoro domestico, comparto ad occupazione prevalentemente femminile. Un'esperienza molto importante e molto apprezzata dalle lavoratrici che vivono una condizione ancora di tutela insufficiente, diciamo. Quindi bene questa giornata e speriamo che se ne facciano ancora moltissime e si continui quotidianamente nell'azione di tutela delle donne nel nostro paese e nel nostro sindacato. Torniamo ad occuparci della catena alberghiera italiana Star Hotels. I sindacati e la direzione aziendale hanno seglato un accordo sul passaggio dei 167 lavoratori dei 5 alberghi TLC di Firenze, Siena, Roma e Vicenza che dal 1 luglio prossimo passeranno alle dipendenze di Star Hotels. 69 addetti dal ramo Food & Beverage transiteranno successivamente alle 10 dipendenze della società Lilium per effetto di un'ulteriore operazione societaria di affitto di ramo d'azienda. I sindacati hanno sollecitato l'attivazione del confronto territoriale sul processo riorganizzativo, come anche sul delicato passaggio della terziarizzazione dei servizi ai piani, sul quale la direzione aziendale ha comunque fornito garanzie sul rispetto delle previsioni contrattuali e sull'applicazione delle condizioni di miglior favore. Il confronto è aggiornato all'8 luglio sull'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi. Parliamo di un'altra catena alberghiera, la statunitense Starwood Hotels & Resort, che entro luglio sarà acquisita dalla società che gestisce numerose strutture ricettive, la Marriott International. I sindacati di categoria hanno siglato con la direzione di CIGA Starwood un accordo che conferma il sistema di relazioni sindacali di primo e secondo livello e l'ultravigenza del contratto integrativo di settore. I sindacati hanno sollecitato la direzione aziendale ad assumere un ruolo maggiormente proattivo nelle trattative di rinnovo del contratto nazionale dell'industria turistica, siglato con la Confindustria, condividendo l'auspicio di una ormai necessaria e improrogabile chiusura positiva della vertenza nazionale di settore. Per la nostra rubrica tra i territori, prima tappa in Lombardia. A Sondrio la Fisaskat territoriale ha lanciato l'allarme per i 14 lavoratori della Mazzalo, ora un'amministrazione straordinaria e concessionaria del servizio gestione parcheggi, riscussione, tributi, tasse e affissioni del comune da quasi tre mesi senza retribuzione. La vertenza a carattere nazionale coinvolge complessivamente 600 lavoratori in tutta Italia. È una situazione insostenibile, chiediamo una presa di posizione politica. Ha stigmatizzato il segretario generale della categoria Cislina che ha nel frattempo sollecitato lo svolgimento d'incontro con le istituzioni locali. Tappa in Veneto. A Vicenza i sindacati di categoria Fisaskat Cisle, Filcam Cigelle e Wiltux hanno siglato con la Confcommercio l'accordo sulla detassazione dei premi di produttività da erogare ai dipendenti attraverso benefit, così come previsto dalle recenti norme introdotte dalla legge di stabilità. Le parti hanno anche siglato un'intesa per l'introduzione dei sistemi di welfare nel settore terziario. Contemplando espressamente l'inclusione del premio variabile tra le somme convertibili in benefit. Soddisfazione in casa Fisaskat si tratta di un accordo innovativo che consente alle imprese del terziario di recuperare quote di redditività e produttività e allo stesso tempo di realizzare nuovi interventi di welfare aziendale e sociale per i lavoratori di settore, ha dichiarato il segretario generale della categoria Enrico De Peron. Tappa in Sardegna. A Carboni i sindacati di categoria Fisaskat Cisle, Filcam Cigelle e Wiltux a 40 giorni dal sit-in dei lavoratori dell'ATI IFRAS accendono nuovamente i riflettori sulla vertenza che coinvolge 502 lavoratori dipendenti del parco geominerario senza stipendio dal mese di maggio. Il presidente Pigliaru si ostina a non incontrare i sindacati snobbando una vertenza strategica per la Sardegna e dimostrando totale disinteresse per le famiglie coinvolte. Hanno stigmatizzato le sigle sindacali in un comunicato congiunto che hanno annunciato per il 28 giugno una nuova azione di mobilitazione e lo svolgimento di un'assemblea permanente finché il governatore ascolterà l'ennesimo grido di dolore della vertenza. Tappa in Sicilia. A Palermo la Fisaskat Palermo-Trapani ha lanciato l'allarme per i 65 addetti dei servizi integrati situati nei presidi ospedaliari dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani coinvolti dalla procedura di licenziamento avviata dalla società logistica ospedaliera. Il 31 agosto scadrà l'appalto e i lavoratori sono considerati in esubero. Una doccia fredda per i lavoratori che hanno visto di colpo svanire le speranze sul loro futuro lavorativo ha dichiarato il segretario generale della categoria Mimma Calabrò. Invece di tagliare posti di lavoro le amministrazioni pubbliche dovrebbero pensare a sviluppare servizi che siano produttivi e nei quali poter utilizzare i lavoratori attualmente occupati fornendo loro anche percorsi di riqualificazione professionale ha concluso la sindacalista. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche sul TGR Lab Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione TGLab e chiocciolafisaskat.it Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. La Fisaskat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisaskat CISL attraverso la contrattazione sostiene la bilateralità cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisaskat insieme alla Felsa CISL ha dato vita alla FIST la federazione italiana dei sindacati del terziario per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisaskat, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.